ciao 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 ragazzi vi volevo avvisare che domani che domenica 28 luglio ci sarà il torneo solo abbonati di fornit torneo solo abbonati di fornit con premio da 800 vbucks inizia alle ore 4 del pomeriggio la durata dipende da quante persone ci saranno a giocare e quindi lo decideremo insieme a volte l'abbiamo fatto fino alle 7 quindi il torneo di sette ore a volte l'abbiamo fatto durare fino alle sei e mezza a volte solo fino alle sei quindi lo vedremo anche in base alle persone che ci sono e poi lo decideremo insieme con gli abbonati che ci saranno quindi venite anche perché ci sono serve un po speciali particolari quindi il server car solo fatto con usando le macchine oppure serve solo piccone dei server video che ha video comanda color che devi trovare una cosa di un certo colore quindi server anche particolare quindi non solo di di battaglia da killare persone diciamo quindi bisogna oltre essere bravi su fornit a volte ci vuole anche un pizzico di fortuna no su alcuni server ci sarà anche un piccolo serverino di sfilata insomma quindi server un po vari nel torneo abbonati e chi l'ha già fatto da tempo lo sa ciao di des video ci vediamo domenica per quanto riguarda gli abbonati invece per quanto riguarda gli iscritti ci vediamo oggi con diverse live vi dico che alle sei e mezza oggi ci sarà baldi su richiesta di angelo che vuole che continuo quel gioco di e adesso devo ancora decidere cosa fare a pausa pranzo oggi sorpresa ciao